Quindi diciamo sì, partite dal giorno, mercoledì 2 ottobre, cavolo, tipo si sincronizza col computer, NBA, ok, facciamo hit contro spurs, io sono gli hit. Noi Jets, no, ho sbagliato, come si ritorna mo? Blazer, Pistons, Suns, Thunder, Timberwolf, Trailblazer, Warrior, Wizard, Berlin, ma che Berlin? Ma che sei? Ti stanno tutte le Lakers, Nikes, Bulls, Sikes, Foxy, Lakers, Pistons, Cavaliers, Bulls, Lakers, Trailblazer, Warrior, Dove cazzo sono gli hit? I Nugget, e vai, Super Sonic, i Jets, Bobcats, Clippers, Glitzer, Hawks, Hit, no! Sono andato solo, ca troia! Rocket, Nugget, Nix, Magic, Bulls, Super Sonic, tra poco ci stanno Bulls, Cavalieri, Clip, i Grizzly, le Aquile, hit, ok! Maglia nera o maglia bianca? Maglia ro, bello, maglia rossa! Classica trasferta 1, alternato, cos'è strana, ok, gioca su, basta! Yay! 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 And this is NBA! And now we send it out to American Airlines Arena, and the LeBron James! E' matto, insomma, il LeBron c'è capito! Voglio iniziare! Sono start quando sono pronto, ok! Guarda che bello l'audio! No, Macklemore stava iniziare! Però non si sente, aia! Perché ho tolto la musica? Si sente tutto con me la musica! Ah! Ah! Oddio, l'odio quello! Dizio degli Spurs che è la partita prima, quando ho giocato a Pro, mi ha fatto tipo 22 punti! Una cosa del genere! Come si è pazza! Allora, Green, Green, dammi una palla! Eh, vabbè! Un minuto di gioco, fallino a lungo! Palla degli Spurs! Tipo, spero di no... Ah, spero di no! Sì, un attimo! Sto gioca... Sto gioca a Super Pro! Sicuro! All Stars! Tutti fortissimi! Pro, madonna, no, matricola, per favore! Ma si mette da solo, comunque! Sì, si mette da solo! Gioco, impostazioni, riprendi! Cazzo, ma che posso inizia a Pro! Eh, se uno inizia... Eh, sta farfalla nell'orecchio! Eh, vai mia! Uh... C'è un sacco, vai! I down, i down, i down, eccoli! E dai! Inizio! Che... Che pus! Calmi, allora! Siamo stati presi un pochino sprovvista! Eh, questa è la nostra verabilità! La verabilità è fare i tiri... I tiri da tre! No, fermo! San Antonio, with the rebound! Calmi, calmi! Calmi, calmi! No, no, non fai nulla! No, ti sei a sbagliare! Uh, no! Fallo su... Ma fallo su tiro! Madonna santa! Manca un bunda fatto! Manca un ganesto! Passare a essere il suo gioco a... Perdere quattro... No! Allora... Wade... Wade, indica! Indica! Passare... Lebron! Lebron con la stella! Lebron! Io lo dò due! Calma! Tutti con le stelle! Tipo Parker e stronzo! Dove vai? Dammi una palla! Dammi... Dammi sta cazzo di palla! Eh! Eh! No, no, no! Eh dai però! Madonna tutti dei down quando vanno a canestro! Non so, difende! È chiaro! Il signore dei ferri! Il signore dei ferri! Che fai? L'ha fatto comunque... Eh! Vabbè! L'ho fatto il punto! Pagliaccio! Uno, quello è forte! È proprio oggettivamente forte! No! 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 Madonna! Ma io ho messo... Meno male che ho messo matricolo! Che sono però uguale! Ma come l'entrata sta palla di merda? Ma l'è nel lungo! Splitter! Ma perché? Perché si muovono così? Si muovono strano! I miei tipo vanno tutti addosso a quello che c'è la palla! Quello la passa! Ci sta uno nudo sotto... Sotto il canestro! Guarda che sorridello sti tizio! Oh, Chalmers! Chalmers! Gli vai davanti! Chalmers! Gli vai davanti! Per favore! A Parker! Io l'odio a Parker! È mattissimo! Oh! Oh! Oddio! Attenzione! Haslam! 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 Shake! Ecco! Oh! No! Che cazzo era poi? Sei finte ha fatto! E non l'ha tirata! Quindi è inutile che state finte! Lebron! 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 Fa un passo! Scansa tutti! Uno è morto! Oh, oh Che fai? Che stai a fare? Oh, ok Sbaglia, sbaglia Lebron Lebron Il nero Canestro Cioccolatino latino Vai, dai Questo pezzo di bene Parker, stai fermo Oh, no, gli era caduta Canestro No, invece Canestro un'altra volta Pazzesco Che Key Leonard Key Leonard Dietro è scritto Allen Ok Voglio darlo Calmi Silenzio Canestro Canestro No, 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 non parte nessuno in Not A Freight, no, 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 shh, 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 eh non è la musica non è la musica nooo brividi oh eccolo under selena ziskin alto 7 metri oh falcanestro e guarda con l'alto in basso ecco salto da solo ginobili ginobili no cazzo eh dopo 7 sbagli e ce l'ha fatta a falcanestro nooo belinelli ma belinelli ammazzalo par che mi da fastidio fisico belinelli sei calmo ginobili ginobili ho scoppato no è mia è mia vai vai anders 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 chi è? col col no vai allen allen fallo fallo vai zitti 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 inutile che ti atteggi ma perchè sei l'nbi non vuol dire che sei bravo piede ma se allora se io cammino madonna che faccia di merda se io cammino e lui mi palleggia sul piede perchè è piede per loro cioè perchè comunque basta un tocco e le piede vabbè ma io che cazzo ne so come faccio come faccio l'idea a evitarlo se tipo sto camminare oh quella è la palla mia la palla mia anders 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 no chi passi pagliaccio battier 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 allen tiro da due canestro parker azzoppalo azzoppalo no dove va oddio dove va calmi calmi vaffanculo vaffanculo tipo da solo questo mi da fastidio odio questo qua va a parte da solo dalla difesa è velocissimo e me li smarca tutti i guanti ok che io non li so guidare però che cosa c'è ma ma il fratello stupido di Will principe di Belair togliela togliela tipo Carlton ci sta poi non è il fratello il cugino andersen tiro da otto canestro la madò tre secondi parker che stai a fare lascia bene guarda che pezzo di merda guarda che ho fatto canestro della difesa sai quando tre due uno tira canestro si ma guarda che figlio di schifo eh cheerleader non ballano nessuna musica le cheerleader cantante e ballerina senza pubblico senza musica dovrebbero prendere sempre l'ambile viene vai oh madonna lebron james prende la palla a altezza 6 metri dai guarda il canestro guarda il canestro ha fatto 360 stando è uscita cattolo sbaglia ma guarda che fastidio tirano tutti da fuori tutte che entrano ma che cazzo tutta la fatica che faccio per arrivare sotto il canestro eh ferro guarda la aslam aslam shake canestro guarda che saurimento parker parker anche se metti matricola parker è all master ci sta con difficoltà solo lui guarda che culo sta agendo io faccio le faticone poi di difesa faccio schifo e mi fanno subito il pull ma stiamo pari lebron james canestro ciappa di qua arriva tu uno correndo bellinelli bellinelli no allora tu non ti prendi il gioco di me bellinelli no bellinelli dammi la palla bellinelli no vai fuori la gente la gente tipo si è alzata dalle serie parla spurs giustamente ma va ma va fammi marca parker te cavo parker parker io da nessuna palla parker no no ah no non è parker è due duncan duncan cantante dei blu che fai che fai eh da sa meno male che ho tirato fuori me ne stavo andà me ne stavo andato se faceva canestro lebron james lebron james he's coming for the booty lebron james da tre ferro ferro fuori che cazzo di palle guarda che il il marcatore di parker è uno lentissimo e parker con una corsa fa sette sette campi nooo da falazio nona e mo otto contropiedi fantastico dammi la palla nooo edda oddio che culo oddio che culo lebron james lebron james nooo madonna che schifo e su ma dov'è la ma che tristezza ma dopo questo è in lutto e vai solo che non so fare la schiacciata che se faccio la schiacciata con lebron james si piega si piega lo stadio otto metri ce l'ho provato non so come si oh oh c'è il mess 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 come si chiama quello non mi ricordo cantante di qualcosa di qualche gruppo morto dai famma che palle parker no snoop dog ma no ma non è uguale ma non è uguale no no snoop dog è un tizio ah è uguale snoop dog senza irasta pelato eh pelato eh pelato si ho capito chi è eh quelli hit giochi non so se anche nella realtà è snoop dog forse si non lo so eh dai guarda c'è presente quando entra tocca la palla tocca la retina e se ne esce io si ho capito se tu fai fallo su t se fallo quando quello tira se il canestro entra deve fare un tiro solo di bonus se invece gli esce se ne esce ne fa due comunque alla fine sempre due punti fa se li azzecca eh però no sono tre in realtà i punti ah perchè gliene da due il palle questa volta non è entrava quindi le tese due eh appunto se riesce a far canestro e anche quello libero sono tre punti prima ho usato i lakers mi sembra che stanno che stanno in pigiama tiro da tre per niente per niente però sono tosti i lakers veramente tosti non so su chi pontare sinceramente e tipo poi c'è Lebron passa a Lebron fa tipo un passo li ammazza tutti guarda i canestri da tre che fanno questi cioè io sto avanti i due punti con la faticaccia quello arriva uno tira il canestro da centrocampo fa canestro e che ro il bot panico oh sto avanti di un punto tipo partita serratissima Parker ammazza da Parker oh 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 Aslem Shake canestro schiacciatona la schiacciatona di Aslem Shake eccolo eccolo nel culo prenditelo nel culo Parker Parker guarda mi è comparsa pure l'icongina del Gatorade oh oddio oddio si seconda schiacciata e mo si mamma butta la pasta mamma cobi bryan mamma mia cobi cobi bryan eh nei Lakers non so che hai detto non so chi puntare cobi bryan eh non c'era cioè nella squadra che vorrei nel murino che vorrei non c'era cobi bryan dammila pa dammila pa oddio mo la skill che aumenta oddio sento la skill fluire nel mio corpo fermo che fai no è uscita è mia è mia ah 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 canestro c'è la troia c'è la troia c'è la troia c'è la troia silenzio 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 quello tossisce ma porca troia ma io amico volevo fare lo spazzino un po' zitti billaden tira eccolo è uno ah è uno e basta perchè ho fatto il canestro parker ormai è stroncato parker una volta parker ma non è più niente non è più niente non esiste più parker eh 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 che fai green 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 dammi una palla dammi sta cazzo di palla la vedo a me non lo so no parker no parker no no parker no 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 eh è uscita esce parker nel pallone parker nel pallone uh no uscita no uscita vaffanculo porca droga no no eh no no è uscita dammela uh uh che partitone il partitone oh è popappato è popappato il nazi skin ok andersen 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 no parker no parker no stai calmo ok prova da fuori e vai no no e vaffanculo a mamme va vaffanculo a mamme ma chi sei ma chi sei no oddio tiro dalla difesa a zero secondi ferro ferro una volta ci ho fatto canestro prima quando ho usato i lakers ma uno sai perché volevo passare sbaglio tiro canestro i cosi i papà che figo hai visto quando fa tra l'inter mezzo e un altro fa la ripresa della città vera tipo ripresa con l'elicottero no non mi è mai capitato al secondo tra il secondo e il terzo quarto lo fa non so se lo fa sempre qui oppure è random quando non farlo ma comunque se fai spurs contro miami hit lo fa sempre canestro un normalissimo canestro da 3 no era da 2 tipo limite del 2 e se mi spostavo un pelo un pixel indietro sbaglia ok è mia stia zitta è calmo ok è calmo oh no oh bosh vabbè ma se sei deficiente non lo so io mi sa che bosh è coso eh Snoop Dogg che fai che fai Parker ormai non c'è più spazio per te in questa partita no Parker no eh tiro da 3 canestro no e vai e vai calmi calmi no calmi contropiede si però calmi uh Lebron fucking James cammina la gente muore attorno a lui e va a canestro tranquillo eh però Lebron non mi fa ostruzione sui miei io tipo sono talmente bravo che gli avversari lì marco da dietro cioè quello sta con la palla aspetta io dietro e vabbè tipo tutti uno stava a correre sul pubblico un altro era uscito negli spogliatoi un altro è morto Lebron Lebron un uomo una squadra canè dai eh dai guarda 7 ferri 7 ferri 7 dammi la palla no donno dammi la palla no donno dammi la palla fallo di ostruo oh che caro sto perdendo l'equilibrio non lo so che devo fare guarda quel frocio di green mi fa bene niente ti sembra da ridire canestro sto avanti di 7 punti se fa questo canestro è di di 5 5 ok c'è la schiacciata dovrebbe da 3 solo perchè è figa eh però no ti immagini ma l'hanno fatto mai il gioco di slam ball sarebbe una figata tipo i front flip i passaggi matti gente che vola Chalmers se la sente da 3 canestro wow Chalmers questo è messicano sono sicuro c'è Chalmers Chalmers mi raccomando Chalmers Chalmers no Chalmers uuuu 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 schiacciata sai che come si fa la schiacciata devi tenere premuto tiro e sprint devi solo tenere premuto ci vado solo shhh io ne ho fatta una fighissima veramente bene ci sta il coso ci sta il l'analogico l'analogico destro nooo ha saltato male l'analogico destro che serve per fare proate io non lo so fa ovviamente non le so fa però se fai attenzione a slam shake corto se lo sei usa bene puoi fai tipo le schiacciate gogo tipo mulinello schiacciata ahhh oddio adesso che me l'hai detto ci trovo ventimila volte secondo tipo se fa un cerchio con le mani se la passi tipo 360 e spam che poi non è tutto estetico a volte serve anche per evitare un blocco oppure tipo i 360 360 no scope canestro no scope canestro Twitch ooooooooooo le brooo da da fuori lo stadio segnato da fuori la donna che guarda veramente io lo odio a Parker mi sta sul cazzo ha fatto ha fatto 18 punti solo lui non lo so quando hanno fatto i miei però sono comunque i danni ooooooooo la potenz guarda come me li smarca tutte sto cazzo di di Parker di merda ma mamma non premo niente vai passaggi passaggi da svelto eh vabbè Ginobili ho scoppato ma scusa ma lo potevano rendere meno ridicolo disegnandogli i capelli un videogame fai tipo vabbè abbiamo sbagliato in realtà è scoppato però nel gioco uuuu altro tiro da tre da del venditore di hot dog messicano non mi ricordo come si chiama ma mi la palla oddio Parker che palle che cazzo di uuu fuori hai fatto bene fatto bene stronzo james nooo madonna la palla pensa male madonna che pallone ma guarda che ne è guarda guarda gli italiani che mi stanno a fare casca sul cazzo i giocatori italiani dell'NBA guarda Ginobili è quello scoppato è quello faccia da culo no prendi la palla prendi la palla passala james james faccela dai james devi da tre james perchè no dovrebbe dire si e vai e vai dove vai dove vai che non ti mancano i capelli sulla nuca eh eh sulla nuca sulla fontanella tipo canestro non ti sa che ho fatto tipo corro palla dietro la schiena dalla mano destra alla mano sinistra la mano sinistra mezzo mulinello canestro però era tipo appoggiata non era schiacciamo che non ci ho creduto e non ho tenuto premuto lo sprint pensavo tipo non la faceva da fermo ma mi sa che anche se allunga le braccia la palla vai vai no ok vai 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 calmi 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 però veloci calmi però veloci però calmi calmi chalmers tiro da 3 canestro tiro da 2 però allora ha detto god damn l'ho sentito allora se stai calmo brutto italiano allora stai calmo per favore e dai che ma non è che salto malissimo da quanto salto male eh 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 tac le azione proprio azione con la con la e basta eh eh ah ah perchè ti faccio tirati pensi tu ah ah perchè c'è zecchi secondo te pfff pfff vai vai james lebron james 63 a 47 dammi la palla scoppato scoppato no e dai pronto segnato guarda che proprio la faccia la faccia con lo stivale sulla faccia si vede proprio che italiano proprio l'ho fatto bene bene che proprio c'è scritto Italy è finito il terzo è finito il terzo è finito il terzo tempo ok welcome back for the ball the first minute miami hit 63 oh 13 da avanti sto ci sta non ci sta sfida non ci sta la sfida non ci sta la sfida non ci sta la sfida quindi non può ripartire no no Parker madonna che palle Parker no e vai oddio quando sobra oddio nazi skin guardalo è talmente alto che ha saltato ha tirato una ditata la palla l'ha fatta usci fuori dal canestro dammi la palla eh 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 Anderson tac è più canestro per me sshh ritaglio la gola sshh che schifo che schifo Pinobili no Pinobili stai calmo uuuuuuuu canestro sshh 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 quindici punti davanti fatti da Carlton eh vabbè sì tipo si prende il gioco di me aha NO no mannaggia che palle ci sembra uno stronzo che sta sotto il canale che vuoi che c'è fa gesticolare sta gente Bush Anderson Oh Anderson Che cos'era quello no 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 E dai che cazzo di palle tipo che ne stai fatti perdere, li fa per forza, li cedono i glitch perché LeBron è in panchina perchè c'è l'auto, c'è il cambio automatico eh lo so però che non ci capisco oi ho avuto il tuo oh 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 un maggiora troia oh 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 dai oh ma che cazzo è ah beh 69 e 56 chi è qua Jay Lebron è Lebron ma chi è questa Doris Blur prendila oh ah beh no ho fatto tipo passaggio della vita o Snoop però dai una tira calmata non vuoi passare così forte dove va l'arbitro oh oh dove stai andando arbitro la palla che sta succedendo ah ok un attimo un bug grossissimo tipo nessuno c'era la palla l'angolo arbitro poi è apparsa l'improvvisa no no e dai due punti sto Parker di merda ma vuole sbagliare non lo so non mi la gestisco ma non mi la gestisco guarda sulla pagina facebook gli scrivo le le parolacce schifo sarebbe schifo you fucking suck I hate you Butler battler battler eccolo e fa gol è un pagotto un biondo di poemine guarda guarda Ginobili guarda Ginobili che siccome è l'italiano all'NBA deve fare lo svelto no no per niente che arriva un brown james che ammazza tutti e fa canestro e brown james cammina non corre fa dei passi molto lunghi e sembra che è un po' allora basta Parker madonna ma guarda che fa canestro da 3 guarda che fastidio tipo non lo faccio passare allora se lo faccio passare se lo faccio passare fa fa tipo schiacciate matte eh vabbè questo si spaventa il mio si spaventa e muore vaffanculo dovunque se lo faccio andavanti fa tipo canestro sicuro 100% se invece non lo faccio camminare si ferma tira da 3 e ci azzecca tocca di qua uuuh dammi la palla Parker basta come si marcano queste persone non c'è un pulsante dove tenere premuto tipo tenere premuto X ehm automarca no tipo Parker miglior giocatore della stagione di tutta l'NBA uff quanto gli metterlo fa ma stagli sotto vagli davanti no panic eh Ginobili da 3 canestro ma vaffanculo un po' tutta sta facilità io tipo le azioni nere e loro pa canestro dovunque cazzo tirano canestro ma vaffanculo faccio una scherzata che non riesce più fallo due punti per me e tira le broni quindi è fatta c'ha il momento quando devi tirare che il cerchietto suo diventa luminoso c'era tipo 3 ore di luminosità vedi se se tira uno stronzo di merda canestro canestro ok se tira uno stronzo di merda è tipo un FPS uno un frame devi la pelle è mia wait si distrugge il canestro wait scatrulls fatto ok 79 e 65 silenzio parker ha fatti solo lui solo parker ha fatto i canesti per il resto li abbiamo annientati allora ginobili no ginobili ti stai a sbagliare no ginobili no 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 dammi la palla parker no parker sei canestro parker no ginobili fa schifo dai 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 devi tira devi tira e non ti faccio niente tira uh ferro e dai ho andando da loro la palla preso ferro c'è uno altissimo salta 12 metri ma vaffanculo un po salto in contemporanea con lui gli metto la mano davanti alla palla la palla se la tira se la tira parker scatrulls vabbè è fatta cioè la la fratellanza fra questi neri è disermante invece di fa canestro quello l'ho passata all'amico l'ho passata all'amico al bro al bro nero dammi la palla mi ha detto io bro si io bro what's up io bro no 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 è vaffanculo madonna parker madonna parker un attimo che mi sono distratto star guarda una tizia con le dette grosse nel pubblico tocchia poti sto canestro da eh da due da là non si può se tiri dall'ala alta cioè su o l'ala lì non puoi fare un tiro da tre se tiri da centrocampo però stai in quell'angolazione non ti da due dai dai wait no quanta d'urto tu hai in un ue con l'intervento tu hai il percorso con ieri wey dis on fire c'è la cosa c'è l'icona ricona delle fiamme la laura no wey di distruggio e poi è il numero uno tipo di omenti non è il numero 3 non è il numero Uuuush! No! Oh, calmi! E vai! È uscita! Il culo! Il culo! Il culo! Wade è finita di essere... di essere on fire. Era un po' on fire. Tipo on fire probabilmente è più bravo. Tipo diventare quel personaggio solo si mette in pro come difficoltà. Guarda Ginobili che fa le figure di merda. Guarda Ginobili che va sotto al canestro, salta e fallisce. Uuuuh! Smooth jazz! Questo canestro. Poi ti dà un mila fottuta palla. Madonna che palla! Madonna il fascino! Ti faccio pure tirare e sbagli! Ridicolo! Eh, sì! Vince! Vai e mette! Vinco un 89 a 69! Bella Madonna! Silenzio! Shhh! Time's for watching! Time's for watching this video! Iraqi Sciovert water company si mette! He's bookedtoyoubyAlt9.com We are infinite. VR fis Grazie a tutti